Bene a tutti ragazzi qui è Vlad e quest'oggi vi porto una clip un po' particolare Praticamente durante una live mi è successo di essere stato ucciso da un player Fin qui tutto normale L'unica cosa è che spettando questa persona perché poi mi sono alzato, non mi sono andato e quando sono tornato ho visto che aveva 36 kg e diciamo che aveva anche dei poteri un po' speciali Per usare un paragone con Dragon Ball mi sembrava un player intrestinto perché poi vedrete nel video fare quelle cose assurde vale la pena vedere e vale la pena ragionare un attimo perché tutte le partite più o meno hanno qualche cheater qualcuno con questi poteri un po' speciali ma tutto qua veramente ribatte tutti quindi vi lascio al game e buona visione se vi piacciono contenuti di questo tipo vi invito a lasciare un bel pulizio all'in su iscrivervi al canale e niente, buona visione! Un bel nemico vi sta braccando, occhi aperti! VAPI NEMICO IN VOLO! VAP nemico in volo! Casi in arrivo! Taglio, taglia e incinere! Ben fatto! Casi in arrivo! VAC! VAC! Ne restavano 25 Stavolta ha vinto il nemico 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 Sì 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 Sì